In Italia sono stati registrati 121 omicidi con 43 vittime donne. Di queste 37 hanno trovato la morte in ambito familiare e affettivo, in particolare 22 per mano del partner o ex-partner. Rispetto allo stesso periodo del 2022 il trend fa registrare quasi lo stesso numero di episodi, più 3%, mentre il numero delle vittime di genere femminile decresce passando da 47 a 43. Sono i numeri diffusi ieri nell'ambito della 14esima edizione di Innamorati di te, il progetto itinerante di codere tale alla multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale, volto al contrasto della violenza sulle donne. Il confronto è stata occasione per riflettere sugli strumenti messi a disposizione dalla normativa. Da circa 10 anni per il reato di violenza domestica è stato introdotto lo strumento del cosiddetto ammonimento del questore. Si tratta di una sorta di ammonizione che ha l'obiettivo di fungere da deterrente. L'ammonimento del questore permette un intervento tempestivo ed alcune volte risolutivo, ha dichiarato Giuseppina Sessa, dirigente della divisione anticrimine della questura di Salerno. Secondo l'ultima classifica del Sole 24 ore sull'indice di criminalità, Salerno si trova al 69esimo posto per quanto attiene le denunce per violenza sessuale, con un totale di 74 denunce ogni 100.000 abitanti, ha fatto notare la consigliera comunale Vittoria Cosentino. Negli ultimi anni sono state inasprite le pene per violenze sessuali. Anche la recente riforma Cartabia ha previsto l'introduzione di novità in materia di tutela delle persone offese. Ne ha parlato nel corso dell'incontro Rocco Alfano, procuratore aggiunto e coordinatore della sezione Reati nel cosiddetto Codice Rosso. La riforma Cartabia in tema di ascolto del minore ha previsto anche una norma specifica che detta le regole alle quali il giudice delle controversie familiari deve attenersi per evitare il fenomeno di vittimizzazione secondaria del minore. Lo ha fatto notare nel suo intervento Ersilia Trotta, componente della Commissione del Consiglio Nazionale Forense. Effettuare incontri che consentano alle donne di riconoscere tutto quello che è violenza è uno dei modi per contrastarla, ha spiegato Antonietta Grandinetti del Consiglio dell'Ordine e dei Psicologi della Regione Campania. La violenza fisica si riconosce facilmente e sulla violenza psicologica che bisogna aiutare le donne e la collettività a riconoscerla senza giustificazioni.